Il dato è aggiornato alle 19.30 di domenica e indica in 611.307 le persone che hanno avuto somministrato una dose di vaccino, di cui 328.000 sono donne e 283.000 uomini. Le dosi di vaccino consegnate in Sicilia sono state 754.000, dunque sono state utilizzate 8 dosi su 10. 12 siciliani su 100 sono stati già vaccinati, è quanto emerge dal report delle vaccinazioni diffuso al Ministero della Salute. La parte più grande dei vaccini è andata agli operatori sanitari e sociosanitari con 215.000 somministrazioni, poi ci sono il personale non sanitario con 148.000 dosi, gli ospiti delle strutture residenziali con 33.000, gli over 80 con oltre 125.000, i rappresentanti alle forze armate con 27.000 e il personale scolastico con 58.000 persone vaccinate. L'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ha fatto una raccomandazione ai siciliani attraverso Facebook. È del tutto inutile, ha scritto Razza, andare molte ore prima rispetto alla prenotazione ed è necessario rispettare le regole di priorità. Se si vogliono evitare lunghe file, la prima regola è rispettare gli orari.